Buon pomeriggio a tutti e bentornati a Siamo Noi. In questo inizio di luglio i nostri vulcani stanno dando spettacolo e procurando anche qualche legittima apprezzione e preoccupazione tra cittadini e turisti. L'Etna, lo stromboli, state vedendo sul grande schermo, ma anche le bocche vulcaniche della caldera dei campi flegrei, tutti si sono messi in attività contemporaneamente e c'è già qualcuno che si domanda se sia semplice coincidenza. Allora noi abbiamo deciso di capire qualcosa di più, fugando dubbi e insomma anche falsi miti. Ci facciamo aiutare in questa prima parte del nostro programma, dalle nostre ospiti che saluto, collegata con noi, la collega del quotidiano, la Sicilia Francesca Aglieri, Rinella. Francesca, benvenuta, siamo noi? Buon pomeriggio a voi, grazie. Buon pomeriggio e ci colleghiamo, e la ringrazio per la sua disponibilità, con la dottoressa Francesca Bianco, sismologa, vulcanologa, direttrice del Dipartimento Vulcani dell'Istituto Nazionale Geofisica e Vulcanologia. Ben ritrovata, dottoressa Bianco. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Allora Francesca, io vengo da te perché sei collegata da Catania per avere un po' di cronaca, tanto più che oggi c'è stata una riunione con il Ministro per la Protezione Civile Musumeci per capire quali misure di sicurezza approntare per quanto concerne Stromboli. E non solo, allora voglio chiederti qual è lo spettacolo che in questi giorni turisti e cittadini si sono trovati di fronte, che cosa sta accadendo, quali le maggiori preoccupazioni e anche di cosa si è discusso in queste ore. Allora, la situazione a Catania, così come in molti comuni pedemontani, è più pressoché simile. C'è cenere ovunque. I cittadini si dicono, noi lo scriviamo oggi sulle pagine del nostro giornale, i cittadini oltre ad essere meravigliati dalla spettacolare eruzione del Lettono, ovviamente sono alle prese con scopo e palette perché la situazione è complicata. Noi scriviamo oggi che i cittadini si sentono prigionieri in quanto la raccolta della cenere lavica accatastata nelle piazze, nelle strade, nelle aiole, nei parchi gioco ovviamente va a rilento perché non ci sono uomini e mezzi a sufficienza. Consideriamo che quella dell'eruzione dell'Etna è un evento sempre imprevedibile. Non sai mai quando l'Etna entra in eruzione. È chiaro che come scriviamo spesso noi, l'Etna così come lo Stromboli fanno il loro lavoro, sono vulcani attivi e quindi per quanto attivi, imprevedibili. Che cosa si è deciso stamattina in termini di sicurezza? Allora io non ho aggiornamenti precisi nella misura in cui la riunione non so se si è conclusa, però le posso dire che la politica siciliana, quindi l'Ars, ha chiesto, alcuni parlamentari dell'Ars hanno ovviamente chiesto che il governo possa intervenire e il ministro Musumeci appunto ha convocato la riunione per capire come superare l'emergenza, che è un'emergenza pratica perché si tratta di fondi che devono essere svincolati da altre parti per intervenire quanto prima possibile. È chiaro che questa situazione è una situazione a cui noi catanesi e noi della Sicilia orientale siamo stati più volte abituati e quindi è un'emergenza che si risolverà nel giro di un paio di settimane sicuramente. Tra poco torno da te Francesca, intanto vorrei convolgere la dottoressa Bianco, dicevo dobbiamo fugare anche i falsi miti, perché mi dica subito dottoressa Bianco, non esiste una stagione che è più favorevole all'entrata, mettiamola così, in attività dei vulcani e dunque questa attività parallela in tre diverse zone è pura coincidenza? Totalmente, è pura coincidenza, non c'è nessuna ragione né fisica né chimica né legata ai processi vulcanici per cui le stagionalità in qualche maniera poi generano le eruzioni. Magari fosse così, saremmo in grado di mettere in sicurezza tutto il territorio, ci sarebbe da pagare uno scotto durante le vacanze estive, perché naturalmente ci sarebbero delle attività più stringenti, ma è una cosa assolutamente priva di fondamento. Senta dottoressa, nei termini più semplici possibili, dunque a beneficio del nostro pubblico, con meno tecnicismi possibili per quanto possibile, ci spiega che cosa sta accadendo in Sicilia tra lo Stromboli e l'Etna? Allora, lo Stromboli e l'Etna in questo momento stanno manifestando una loro attività più intensa, che non è un'attività mai vista prima, è un'attività in cui ritroviamo i due vulcani più o meno periodicamente. Per quello che riguarda l'Etna, abbiamo visto un intensificarsi delle attività, in particolare nei crateri sommitali e nel cratere del lavoraggine, da cui abbiamo osservato una serie di importanti attività esplosive che noi chiamiamo fontane di lava, che è un termine tecnico, ma credo che renda anche molto bene che cosa noi vediamo. Vediamo questi getti di lava che vanno verso l'alto, abbiamo osservato delle fontane di lava addirittura di 9 km durante questa fase. Queste fontane di lava sono il risultato di un'attività esplosiva ed essendo il risultato di una debole attività esplosiva, producono cenere. Questo è un problema naturalmente, al di là di tutto, perché la cenere vulcanica non solo crea problemi al traffico aereo, come è ben noto, chiunque di noi doveva andare a Catania negli ultimi giorni, in particolare fra giovedì e venerdì, ha trovato dei problemi legati al fatto che l'aeroporto era chiuso e che i voli venivano cancellati, ma anche ricadendo al suolo la cenere ovviamente lascia dei residui che poi hanno dei problemi di smaltimento, come credo sia già stato detto. Sì, lo diceva Francesca. Francesca, accennava la dottoressa Bianco agli aerei cancellati, gli aerei in ritardo, però poiché tu stessa l'hai sottolineato, noi siamo abituati a convivere con questi vulcani, ti vorrei chiedere qualche curiosità a proposito di come si convive all'ombra dei vulcani. Peraltro, diciamo storicamente, lo Stromboli è sempre stato quel faro con i suoi fuochi per i naviganti, per i fenici, per i romani, per i greci e l'Etna ha sorpreso a fine 600 i catanesi. Sì, in realtà c'è molta Etna, nella nostra città c'è tanta Etna, c'è la pietrolavica del basolato, delle strade, e così come a Stromboli c'è il fascino dell'eruzione, la differenza sostanziale, insomma, che è pur sempre uno spettacolo della natura e quindi contro la natura non ci si può fare niente. È chiaro che il fascino dello Stromboli ha un fascino diverso perché c'è la colata che va al mare. Noi da questo punto di vista a Catania, così come nei paesi del Pedemontani, siamo più tranquilli, insomma, perché al di là dell'eruzione del 1669, insomma, e di tempo ne è passato, è chiaro che una colata lavica che fuoriesce dall'Etna sicuramente dà tutto il tempo per organizzarsi, insomma, per prevedere prima che possa arrivare a balle. Quindi siano due spettacoli che hanno allo stesso tempo, è come se avessimo una spalla di Damocle che ci pende sulla testa, ecco, ma lo sappiamo. Sei stata chiarissima, sei stata chiarissima. Dottoressa Bianco, noi ci siamo concentrati fin qui sulla Sicilia, poi però c'è la situazione a cui accennavo in apertura delle bocche vulcaniche dei Campi Flegrei, ne abbiamo parlato anche qui in trasmissione, soprattutto soffermandoci sulle manovre di evacuazione, le misure di sicurezza, perché lì c'è una situazione delicata che va avanti da diverso tempo. Ci aiuti a comprendere. Sì, la caldera dei Campi Flegrei dalla fine del 2005 mostra il fenomeno bradisismico, che è un fenomeno storico nell'aria, cioè si presenta da decine di migliaia di anni in qualche modo e periodicamente ritorna. Tutte le volte che ritorna però trova una novità e la novità è che la caldera Flegrei è sempre più popolata. Noi non avremmo grandi problemi naturalmente se all'interno della caldera non fossero state costruite diverse cittadine, inclusa parte della città di Napoli e la presenza degli umani sul territorio contribuisce ad aumentare il rischio della caldera. C'è un sollevamento che in questi 19 anni è arrivato a deformare il suolo per un'altezza pari a circa 130-135 centimetri nella zona di massimo sollevamento. Una delle caratteristiche di questo fenomeno è che il suolo si solleva sempre di più in un'unica area che è quella del rione Terra di Pozzuoli. Man mano che ci si allontana dal rione Terra di Pozzuoli il fenomeno di sollevamento diminuisce di intensità fino ad annullarsi pochi chilometri al di là e lontani dalla zona centrale di Pozzuoli. Purtroppo la deformazione genera poi sismicità perché il suolo sollevandosi accumula sforzo che poi rilascia in maniera improvvisa rompendosi e quindi generando i terremoti. Nell'ultimo anno grossomodo noi stiamo assistendo a una intensificarsi proprio dei segnali associati al bradicismo. Maggiore sollevamento ed eventi più frequenti e più energetici. È stata chiarissima e qui insomma le considerazioni e le preoccupazioni per la sicurezza ci sono perché giustamente lei sottolineava che è un'area densamente popolata oltre 600 mila abitanti. Francesca, l'impatto sull'industria del turismo di queste attività vulcaniche è visibile? C'è? Si sono riscontrate delle cancellazioni? Gli esercenti manifestano preoccupazione? Qual è la situazione? Allora, facciamo i retti di distinguo. Sull'Etna ovviamente l'accesso al cratere e quindi alla parte sommitale già per ragioni di sicurezza era stato vietato da tempo. E quindi a maggior ragione adesso tutti sono incuriositi dall'eruzione. C'è un limite oltre cui i turisti non possono andare. Un limite che prevede standard di sicurezza. E questo per quanto riguarda l'Etna. No, sull'Etna i numeri sono confermati al momento. Anche perché questa è la stagione in cui sono le prime escursioni sull'Etna estive in cui i turisti, soprattutto provenienti dal nord, vogliono scalare l'Etna perché il clima è mite. Per lo Stromboli, perché lì è un'isola quindi insomma un po' più delicata. Per lo Stromboli è un po' più complicato perché per ragioni di sicurezza la protezione civile e anche l'assessorato regionale ovviamente ha imposto dei divieti che sono sacrosanti. Il turista è affascinato dal vulcano quindi vorrebbe raggiungere l'isola e le cancellazioni sono state in minima parte al momento. E il problema è degli albergatori. Gli albergatori hanno paura che se lo Stromboli dovesse continuare con questa intensità di eruzione ovviamente che i problemi possano essere maggiori. Quindi gli albergatori si preoccupano ovviamente che le disseste possano incominciare a capitare. Sono in una fase di osservante attesa diciamo, Francesca, grazie. Dottoressa Bianco, siamo proprio alle battute finali in conclusione di questa prima parte. Le chiedo se in base ai modelli e agli studi che state facendo è possibile prevedere qualcosa sull'andamento di questa attività vulcanica con riferimento alla Sicilia adesso. In questo momento siamo in una fase in cui in particolare per Stromboli stiamo osservando una quasi totale assenza di attività esplosiva nella zona dei crateri sommitali e invece l'attivazione di una colata di lava, un flusso lavico a quote anche abbastanza basse rispetto a quelle a cui siamo generalmente abituati nell'asciara del fuoco ormai siamo intorno a un livello di 410 metri sul livello del mare e questa intensa attività di lava di flusso lavico determina poi l'apertura del flusso noi lo chiamiamo un delta come se stessimo guardando un fiume il delta del fiume che si apre quando va in mare è esattamente la stessa cosa questo flusso di lava si apre a ventaglio verso la linea costiera e poi tende ad andare verso il mare. Grazie Grazie, grazie dottoressa Bianco ringrazio la collega Francesca Aglieri Agliera-Rinelli Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti